Benvenuti a un nuovo video di Pokemon MO, oggi continuiamo. E' vero che non posso correre verso l'alto? Zigdugoo! Rals, vai! Ah, prima che me lo dite, eh sì, me lo dicete, vabbè, apposta. Prima che me lo dite, sono le 22-28. E diciamo che sono un po' di fretta, però almeno 10 minuti li voglio fare. Sia perchè devo rangelizzare, sia perchè devo ammattere un po', sia perchè mi devo far l'ascia, almeno devo andare a dormire perchè domani c'è un stage, però vabbè. Allora, ho un'altra confusione che sembra più un graffio, però va bene. Io adesso stavo pensando, ora che finisco qua la Lega, ce ne vorremmo un po'. Non l'ho battuta ancora su Rubinomica, però vabbè, con le foglie. E pensavo di iniziare una vecchia serie che penso già da molto, molto, molto tempo. E' praticamente quella di Nero, o comunque uno di quei Pokémon là, dell'ultima generazione. confusione, poi vediamo ancora presto per decidere. Nel frattempo confondiamo il Whirlpool che è più simpatico. Quello vende i Yellow Shard a 120k. Che cacchio sono? D'oro! Ok che è Yellow, però non è Gold. siccome è sempre presente il pesce il vendolo. Il mio logo stamattina c'era, il mio logo adesso c'è Purmo. E che caspia! Che è sta musichetta? No, non mi dire che è una vera. Mi ha tracciato la canzoncina. Ah, vero! Mi sono ricordato adesso. Antiparadisi. Shroomish. Si evolverà in un bellissimo Brilum. Se non c'erano Spargespor era meglio però. Perchè lo vedo più morto che vivo Shroomish? Ceralds. Appunto. Telo. Molto. Beg. Quanti parole si chi se ne fai che devo parlare. Catturiamo Shroomish. Ok. Dopo che cresce la scheda video per la seconda volta ogni giorno. oggi. Mi sa che tra un po' formatterò il computer. Non lo so. E boh. Ritorniamo dove eravamo prima qua. Non canticchia più. ma aspetta fammi vedere al menu impostazioni opzioni video 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 mi fai passare so rame quando corro verso magari è un problema che c'era io non lo so non capisco sbagliato confusione un'altra confusione mi dovrebbe parecchio fastidio perchè c'ho la 750 ti è nuovo quanto c'ho due settimane ok non devo correre verso l'alto capito ok morto non 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 Morto Eh vabbè Ultimitro Cos'è quello bagliaccio? Acqua Grund Eh beh I big scontri Pochi hanno al 9 contro pochi hanno al 3 Chi vengerà a mano lo so Allora tiriamo su Trico E almeno almeno lo vorrei tirar su Uppu Alessare Assolutamente Assolutamente Un tasso Un tasso Un tasso e bla 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 via batteria mi ha dato una megaball cosa ma pensavo ad un altro pokemon che non c'entrava nulla asso avviamento parmodini quasi quasi tirarei in campo delu e dai con tutti ci vuole